Non c'è nessuna emergenza e nessun ritardo nell'accoglienza dei senza tetto in caso di emergenza freddo, perché il Comune di Salerno ha già attivi due dormitori, uno presso l'area dei Saveriani e l'altro ai Barbuti, dove possono trovare riparo e già da tempo circa 40 persone. In più, il prossimo 27 novembre sarà convocato un tavolo per condividere formalmente una serie di scelte che sono state già riviste con una serie di attori a rispondere alle accusi e alle critiche mosse ieri dalle associazioni di volontariato su presunti ritardi dell'amministrazione comunale nell'attivazione di aree di soccorso in caso di emergenza freddo e davanti all'ipotesi che l'area di Via dei Carrari non possa essere più utilizzata, è stata questa mattina la consigliera comunale, Paola De Roberto. Che quest'anno, per fortuna, l'assessorato alle politiche sociali, già attento da tempo su questo tema, grazie anche alla rete costituita un paio di anni fa con tutti gli operatori del volontariato, ha deciso di stanziare una somma pari a quella stanziata dall'anno scorso per l'accoglienza dei senza fissa di Mora durante il periodo di emergenza freddo. Quindi circa 25 mila euro saranno destinati a accogliere i senza fissa di Mora. Già 40 posti sono disponibili nei due dormitori, quello della Caritas e quello dei padri saveriani. Un'altra quarantina di posti, perché potenzieremo la struttura, il centro d'Antonino Bello a Piazza San Francesco, verranno destinati lì, è una struttura molto bella che andava in qualche modo ripresa dopo la bellissima esperienza dell'anno scorso di Via dei Carrari. Si è deciso però di operare in una logica di maggiore sicurezza per valorizzare anche una struttura bella come quella di Piazza San Francesco e per garantire una logistica migliore trovandosi la struttura di Piazza San Francesco al centro della città, quella struttura da destinare ai senza fissa di Mora. Quindi più o meno auspichiamo di poter avere un'ottantina di posti disponibili per coprire tutte le esigenze che in qualche modo sono queste le richieste che ci arrivano dal gruppo dei volontari che operano ogni sera con le unità di strada. Se sarà necessario attivare altri posti abbiamo già raccolto delle disponibilità in merito da realtà del privato quindi insomma la macchina si è messa in moto come tutti gli anni, la rete continua a funzionare e speriamo nel tempo di poter essere sempre più efficienti. Grazie a tutti.